Partiamo però da un dato invece molto locale, quello relativo all'ospedale del Veneto orientale. Allora qui si parla di fare un nuovo ospedale che potrebbe sorgere a Sastino di Livenza, chi dice Ceggia, poi ormai forse che torne di Mosto, non lo so, ci sono vari comuni, varie ubicazioni che potrebbe avere questa struttura, però certo il cittadino si chiede come mai se non ci sono i soldi per tante cose, per esempio non ci sono i soldi per ristrutturare degli immobili, fare delle case popolari, tanto per fare un esempio, non ci sono i soldi magari per mettere un attimo a posto la statale 14, la tratto soprattutto della statale 14 che va da Portogruaro verso Ceggia, la parte lì ci sono buchi notevoli, mettono a dura prova le sospensioni, non ci sono per queste cose qui, però poi salta fuori che ci sarebbero si parla addirittura 90 milioni di euro, se ho capito bene, per fare un ospedale ex novo. E che faremo poi degli ospedali attuali di Portogruaro, di San Donà, di Esolo, visto poi che non è un momento in cui si dice, vabbè li mettiamo sul mercato, solo immobili renderanno comunque, no, gli immobili restano vuoti e quindi il rischio è di avere una spesa e di non riuscire poi in nessun modo a rientrarci per le casse pubbliche appunto. Allora, quali osservazioni possiamo fare però, viste dalla realtà poi sanstinese per quanto riguarda il tema dell'ospedale unico? Perfetto, la ringrazio. Lei in realtà ha già introdotto due argomenti secondo me che colgono nel segno. Quello dell'aspetto finanziario direi che è l'argomento principe. L'argomento dell'ospedale unico che in questi giorni è un po' balzato all'onore delle cronache e ha visto un po' tutti dire la propria, vede anche noi avere una posizione che è chiara, netta, decisa ed è ovviamente una posizione assolutamente contraria a quest'opera posto che è tutta da valutare la realtà dei fatti e quindi della sua realizzabilità. Lei ha parlato di 90 milioni, ho sentito parlare di 100 insomma. La domanda è proprio questa. In un momento storico come questo, in cui la popolazione è stremata perché lo vediamo insomma, è storico di tutti. Pensare di spendere una cifra del genere per l'ennesima, mi viene da dire, cattedrale nel deserto non trova una motivazione valida assolutamente. Lei ha poi accolto anche il secondo punto che ci lascia piuttosto perplessi, ovvero il fatto dei tre ospedali già esistenti. Ospedali che negli anni hanno fagogitato miliardi di lire prima, milioni di euro poi e che se le parole hanno ancora un significato ospedale unico mi fa pensare che il giorno in cui questo famigerato ospedale dovesse essere aperto i tre ospedali attualmente esistenti verrebbero chiusi e come lei giustamente ha detto che fine farebbero? Mi viene a pensare a un ospedale che dovrebbe servire da Bibione a Punta Sabbioni e se è vero che un ospedale di alta specializzazione come ho sentito dovrebbe essere questo potrebbe portare grandi operazioni, mi chiedo nella quotidianità quando mi taglio un dito e ho bisogno di tre punti e devo andare in un pronto soccorso come potrebbe fare un pronto soccorso a Sanstino a Torre di Mosto come ha detto lei, comunque un posto unico a sopportare l'impatto di un bacino d'utenza così grande. Volevo dire questo, noi non siamo per gli sprechi tutt'altro, se tre ospedali sono un lusso per l'AS10 oggi noi siamo per razionalizzare sicuramente, se tre sono troppi ne basteranno due, se due sono troppi ne basterà uno, ma crearne un nuovo che a nostro modo di vedere sarebbe il quarto, è il quarto, non è un ospedale unico, oggi è antistorico. Bene, io ringrazio quindi Luca Vian, Movimento 5 Stelle di Sanstino di Levenza, ringrazio tutti voi per l'attenzione e passo la linea a Pordenone.